Musica Buon pomeriggio a tutti amici di Volonbrite, siamo al convegno annuale del progetto Aria in compagnia di Eugenia Guerrini, coordinatrice per la città nella coprogettazione del progetto Aria. Buon pomeriggio. Grazie. Allora Eugenia, volevamo chiederti che cos'è Spazi Reali e come Spazi Reali lavora sull'autonomia con i ragazzi. In due parole non è facile, comunque Spazi Reali fa parte del progetto Aria e vuole offrire oltre a Via Giolitti che è lo sportello d'ascolto, uno spazio di facile accesso e non è un luogo precostituito di iniziative azioni rivolte ai giovani, ma vuol proprio essere uno spazio di facile accesso dove ragazzi dell'età dai 14 ai 28-29 anni possono arrivare sicuri di trovare qualcuno con cui anche solo sostare in silenzio oppure portare delle proposte oppure chiedere aiuto, certi di trovare qualcun altro con cui condividere un pezzo di strada e di trovare anche il sostegno per realizzare alcune idee, alcune proposte che possono portare o trovare insieme qualcuno con cui provare ad affrontare e delle difficoltà che vengono portate. Sicuramente per dei giovani sapere dove chiedere delle informazioni, dove trovare opportunità di relazioni, dove chiedere aiuto per dei percorsi è un fattore di autonomia, cioè sapersi orientare e andare nel posto giusto, nel momento giusto rispetto alle tappe evolutive che si stanno attraversando è un fattore che facilita i processi di autonomia e spazi reali e il progetto ARIA vogliono essere questi luoghi di facile accesso dove poter dare una mano a acquisire queste competenze necessarie. Stamattina hai usato tre parole chiave per descrivere un lavoro efficace ed efficiente per i ragazzi, quali sono? Stamattina abbiamo parlato anche di comunità educante, quindi spazi reali, viaggiolitti, progetto ARIA fanno parte di una comunità educante più allargata, ma quello rispetto al quale ci si sta esercitando all'interno del progetto ARIA essendo già composto di una pluralità di realtà pubbliche e private è quello di avere alcune caratteristiche che possono essere riassunte come una comunità educante interconnessa, cioè non autoreferenziale e non frammentata, una comunità educante ricca non perché siamo particolarmente economicamente ricchi perché non lo siamo, ma ricca nella capacità di riconoscere la ricchezza di cui è portatore il gruppo, la realtà, le persone con cui collaboriamo e quindi ampliare la possibilità di offerte, la pluralità nelle relazioni, la pluralità dei percorsi perché sappiamo riconoscerci, conoscerci e valorizzarci reciprocamente e poi curiosa perché ci nutriamo grazie all'ascolto di quello che ci viene portato che sia una proposta, che sia un bisogno e quindi questa attenzione, questa curiosità sono la nostra stella polare che ci può guidare per le proposte che possiamo mettere in campo Ricordiamo che Spazi Reali è in corso San Maurizio 4 e siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 3 alle 6. Buon pomeriggio a tutti!